Professor Vittorio Sgarbi 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 di questo anno accademico, c'è stato anche Rutelli che ha parlato di dottori, noi l'abbiamo visto un po' come figurante, ci preoccupava la cosa. Rutelli ha svolto la mia funzione, ha fatto il critico d'arte, io però considero questo affresco un momento non particolarmente elevato della produzione di dottori e quindi lo vedo più come una fascistata arcaica. Una fascistata arcaica? Però con un po' di ombre futuriste, quello che ha detto era sensato, l'opera secondo me richiedeva più distacco, lui si è appassionato, essendo abituato a vedere delle opere veramente belle ha scambiato questa per un'opera bella, questa è un'opera che devo dire che ho una grandissima ammirazione per la sintesi dell'autore di Bastoglievi che è un artista straordinario e molto più efficace di quanto non sia qui, e non si può guardare si può dire ecco c'è... No, beh, francamente sì, ci ha messo questo accetto. Anno accademico 2017-2018 dall'Aula Magna dell'Università per gli stranieri di Perugia che quest'oggi ha tagliato il nastro in pompa magna con il ministro Valeria Fedeli, con tanti ospiti d'eccezione, Vittorio Sgarbi, Francesco Rutelli, Feltrinelli, c'era un suo rappresentante che ha ricevuto anche il sigillo universitario, io che sono giustamente privo di Ermellino, chiudo questo bel servizio da qui augurando un buon lavoro studio a tutti i ragazzi stranieri e nonna.